Qui vicino Giulio Questi, uno dei più grandi registi italiani, almeno secondo noi. Ci ricordiamo Se Si Vivo Spara, ci ricordiamo Arcana, ci ricordiamo anche questa grande operazione che ha fatto Marco Giusti. Poi grazie anche al cappello protettivo di Quentin Tarantino hanno riabilitato il grande cinema italiano come lei ha sempre fatto. Sì, hai raccontato molto bene la storia, gli avvenimenti, ma certo è stato importante, molti film sono stati riscoperti, giustamente rivalutati, alcuni giustamente, forse altri anche noi, intendiamo. Perciò è stata un'operazione molto positiva per non fossilizzarsi proprio su un certo cinema, ma aprire a qualsiasi possibilità di cinema, come è in verità. Ultime due domande, bellissima la butà di Jule Kim, famosissimi lei e Kim Arcali, vuole raccontare il collaboratore, un grande montatore, lei è stato un grande regista, se vuole ricordare un po' Kim Arcali, com'era lavorare con lui? Non lo so, Kim Arcali è diventato un mio grandissimo amico fraterno, eravamo sempre insieme, tant'è vero che appunto ci chiamavano Jule Kim, sfottendoci un po', è stato un grande collaboratore, fraterno proprio, siamo stati uniti nel lavoro e nella vita per qualche anno, poi ciascuno ha preso un po' una sua propria strada. Ultima cosa, poi lasciamo andare, la questione del cinema di genere. Il cinema di genere non è che occorre invocarlo, occorre farlo, perché il genere oramai nella tradizione, chi fa cinema, ma anche non volendolo, finisce per fare un cinema di un certo genere, qualsiasi film si fa è sempre di un certo genere, tutto lì non è una grande novità. Grazie a tutti.